Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse, io sono Elisa e vi do il benvenuto su questo canale. Oggi andremo a fare un reading vlog, che è un po' che non faccia, a me piace tantissimo, e la recensione finale del libro. Allora, il libro in questione, che vi farò vedere ora, tra un momento, è molto molto lungo, quindi è parecchio tempo che lo sto leggendo e non penso di riuscire a finirlo stasera perché sono già le nove e mezza e tra due giorni, da quando sto registrando questo video, io avrò un esame. Quindi penso che tra oggi e il giorno dell'esame, dopo l'esame, finirò il libro e vi farò la recensione, quindi sicuramente uscirà dopo. Detto questo, il libro in questione è I tre moschettieri di Alexandre Dumas. Allora, su una pagina 634, questo libro ha circa 725 pagine, quindi mi mancano una novantina di pagine e io lo sto adorando. Cioè, veramente, le prime 630 pagine le ho amate alla follia e adesso c'è tutta la storia di un personaggio che io sto odiando, ma perché è proprio il personaggio che si fa odiare e penso che fosse esattamente l'intento di Dumas. Quindi niente, adesso andremo a leggerlo insieme e alla fine vi dirò un po' tutti i miei pensieri. Prima cosa però, vado ad accendere la candela. Questa candela, oltretutto, ha una storia un po' strana perché io continuo a metterla qua dietro, ma già una volta l'ho rovesciata tutta sul letto, sulle coperte, ho rischiato di dare fuoco a tutto il letto, ma il problema è stato che l'ho presa in tempo e l'ho spenta. Mi sono ustionata una mano e ho macchiato per sempre le coperte di cera. Vabbè. Partiamo. Sono a buon punto con la lettura, mi sta piacendo tantissimo, però nel frattempo ho deciso di andare a rifarmi le unghie perché, ah, ups, così, queste non mi piacciono più tanto e le vorrei più scure. Quindi andremo a fare semi permanente nero, nel frattempo che leggiamo. Ho terminato le unghie e sono anche riuscita a bagnare il libro, nel frattempo. Fantastico. Allora, è tardissimo perché è tipo l'una meno venti, l'una meno un quarto, però ho finito i tre moschettieri. stupendo, anche se il risvolto finale è molto crudo e truculento rispetto al resto del libro, nel senso che nel resto del libro si svolgono sempre degli episodi comunque di uccisione o di trame, però alla fine se ne concentrano parecchi. Comunque ve ne parlerò meglio appena faccio la recensione, che non sarà adesso, però bellissima, sono molto contenta, molto, molto contenta, quindi arrivo con la recensione. Allora, eccoci qui finalmente per la recensione di i tre moschettieri. Allora, sono passati un po' di giorni, almeno quattro. D'altra parte io non sono stata benissima, anche adesso ho un po' la voce nasale, però finalmente sono qui per parlarvene, l'esame è fatto, è andato molto bene, quindi sono molto contenta, ho tutto il tempo. Allora, cosa dire? Innanzitutto questo libro non è cortissimo perché appunto sono 725 pagine. 725 pagine scritte in modo magistrale. Io non avevo mai letto nulla di Dumas prima di questo libro e vi dirò che la sua scrittura è molto bella. Ovviamente io l'ho letto in traduzione. La traduzione di questo libro è a cura di Camilla Diez. Secondo me è fatta molto, molto, molto bene. Nel senso che il testo è estremamente fluido e nonostante appunto sia una scrittura ottocentesca, lei riesce a rendere il testo, tra virgolette, moderno. Quindi non ci sono termini troppo vecchi, ma al contempo alcuni di questi rimangono, alcuni di questi termini, per cui tra virgolette vi trasporta esattamente in quel mondo, in quel periodo storico, nella Francia di Anna d'Austria e Luigi XIII. Quindi, cosa è piaciuto tantissimo a me di questo libro? Innanzitutto i personaggi. I tre moschettieri ed Artagnan, quindi Atos, Portos e Ramis, sono meravigliosi. Tutti i personaggi sono personaggi a tutto tondo, quindi soprattutto questi uomini, noi li vediamo in più situazioni, in più modi di comportarsi e appunto sono caratterizzati molto, molto bene. Per quanto riguarda le donne, ci sono donne molto più approfondite. Ad esempio la figura di Milady, che è una figura che non entra subito in gioco all'interno del romanzo, anche lei è un personaggio però a tutto tondo, quindi vediamo più aspetti del suo carattere, della sua personalità e anche della sua vita, del suo passato. Ci sono invece donne che rimangono un pochettino più sullo sfondo e sono personaggi un po' più piatti. Ad esempio, Costance Bonacieux. Detto questo, spero di ritrovare questi personaggi o altri femminili all'interno di un altro romanzo, che vorrei andare a leggere a breve, però lo dico sempre perché non lo faccio mai, quindi quando lo leggerò vi dirò, sempre di Dumas. Detto questo, mi è piaciuto anche molto la distinzione tra appunto il re e il cardinale Richelieu. Perché? Perché Richelieu è un personaggio misterioso. Nonostante questo, è un personaggio che viene approfondito molto più del re, che invece ci viene rappresentato come una marionetta. Detto questo, oltre ai personaggi e oltre alla scrittura, la trama è fantastica, la trama è un continuo intrigo, sotterfugi. Ovviamente anche qui si vede la differenza tra come agivano gli uomini e come agivano le donne. Quindi abbiamo l'uomo che senza nessun tipo di problema affronta in duelli il suo rivale o comunque non si fa problemi, diciamo, a essere magari messo alla bastiglia, essere imprigionato alla bastiglia per poi essere invece scarcerato tramite i suoi amici, mentre la donna deve ovviamente agire nell'ombra. Quindi usa la classica tattica, quindi magari il veleno, o comunque è molto più riflessiva, meno impulsiva. L'uomo appunto affrontava, lanciava il famoso guanto di sfida oppure apertamente diceva incontriamoci in questo posto, a quest'ora e duegliamo. Solo uno ne uscirà vincitore, ok? Mentre la donna nell'ombra seduce per arrivare al suo scopo. Una volta che è arrivato al suo scopo magari quella persona non le serve più, quindi per caso succede un incidente, spesso sono uomini ovviamente, succede un incidente a cui l'uomo e magari muore in circostanze che sembrano molto casuali e in realtà non lo sono. E quindi è tutta una trama di apparentemente sembra, all'inizio sembra semplicissima, in realtà poi piano piano più si va avanti più si infittisce e abbiamo mille intrecci. Ci sono tantissime linee narrative che all'inizio possono sembrare magari scollegate, in realtà poi vanno ad intrecciarsi l'una con l'altra, finché alla fine non abbiamo il quadro perfetto di tutto ciò che è successo. Sono molto molto contenta, devo dirvi la verità, di aver letto questo libro. Mi è piaciuto da matti, cioè io ve lo super super consiglio. E c'è un volume che si chiama Vent'anni dopo, che è molto più consistente di questo, che andrò a leggere tra un po', per appunto andare a riprendere questo mondo dei moschettieri che so di non aver lasciato, quindi al 100%, sono molto contenta. Nonostante alla fine di questo romanzo noi sappiamo un po' dove vanno i nostri moschettieri. Probabilmente vent'anni dopo ci sarà una riunione di questi personaggi e capiremo perché si riuniscono e quale altra missione dovranno affrontare. Non vi svelo effettivamente nella trama cosa succede, perché sennò vi togliere tutto il bello di questo romanzo, però posso dirvi che è meraviglioso. Cioè, io ho iniziato, è stato il primo libro che ho finito in questo 2023, devo dire che ho iniziato col botto, è bellissimo. Quindi basta, non mi dilungo oltre. Spero di avervi incuriosito. Fatemi sapere se avete letto qualche opera di Dumas, sono sicura che tantissimi di voi avranno letto Il conte di Monte Cristo, che io, sarà un recupero che dovrò fare. E fatemi sapere appunto se avete letto anche I tre moschettieri. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete supportare il canale lasciate un pollice in su e iscrivetevi. Se volete farlo in modo attivo c'è un link grazie al quale potete regalarmi un libro. Come sempre vi lascio i miei profili Instagram e TikTok nell'info box e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!